Regali già fatti o ancora da fare? Ancora da fare, siamo in giro. Ultimi giorni per i regali di Natale, ultime ore concitate per trovare quello giusto per tutti coloro che amiamo. I bambini sono i primi della lista in assoluto, tanto che le vendite di giocattoli in questo periodo subiscono un'impennata come non mai. Ma anche per i più grandi non si rinuncia a far trovare sotto l'albero un pensiero più o meno corposo o costoso. Spesso però accade che la strena natalizia deluda le aspettative e allora via ai cambi e nel peggiore dei casi ai regali che finiscono per essere riciclati. Ma gli aretini cosa non vorrebbero trovare sotto l'albero? I dispiaceri, l'angoscia. La crema anticellulite. Ad esempio potrebbe essere, sì, la crema anticellulite proprio non va regalata per Natale, assolutamente no. Altrimenti? Calzettoni. Mai, 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 mai. Mai regalare calzettoni. Mai calzettoni a Natale. Il pigiama? Ecco, i dati, uguale. No, vabbè, il pigiama è un altro conto, però calzettoni proprio mai. Non ho l'albero. Sì, non ho l'albero. Va bene, anche per mettere la palestra va bene. Ah, quindi quello andrebbe bene. Sì, quello va bene. Quello che non vuoi invece? Quello che non voglio è un cane. Invece lei sì. Lei sì, lo vuol sì il cane, per forza. Va bene, vediamo come va a finire. Speriamo bene. C'è un regalo che proprio non ti piace? Il formaggio. Il formaggio. Meglio la cioccolata. Eh sì.